amici di auto digest tv siamo di nuovo con una renault captur avevamo già provato le vecchie versioni ma adesso col modello 2019 proviamo una versione particolarmente interessante perché la turbodiesel 1500 famoso motore renault fantastico che troviamo anche sulle mercedes bel turbodiesel in versione da 90 cavalli ma soprattutto con il cambio automatico doppia frizione edc e poi con l'allestimento sport edition 2 non è chiaro che è un nome lunghissimo però adesso andiamo a vederla vediamo com'è fatta e soprattutto come va perché come sapete questo motore consuma davvero pochissimi questa versione la sport edition 2 con l'allestimento come dice la parola stessa sportivo questo 1.5 dc ai da 90 cavalli ha un cuore brillante cambio doppia frizione edc che ben si adegua alle risposte a innesti morbidi ma se si vuole una sensazione un po più forte il passaggio manuale è l'ideale con innesti più rapidi il tutto in una vettura dalle dimensioni poco superiori a quelli di una clio più lunga di soli 6 centimetri comodità piacevole garantita nel ciclo urbano il motore ha una certa elasticità a regimi medi e un buono spunto ai bassi complessivamente il comfort è buono partendo da una insonorizzazione adeguata e alle sospensioni con una taratura ottimale gli interni presentano diversi vani dove riporre il cellulare bottiglie e quant'altro qui si aggiungono un profondo cassettone estraibile da 11 litri sul lato del passeggero un piccolo neo lo troviamo nell'unotto posteriore non molto largo anzi piuttosto piccoli prestazioni presto detto da 0 a 100 chilometri in 13 secondi e mezzo e consumi piuttosto moderati grazie ad una guida attenta però si scende anche sotto i 5 litri per 100 chilometri se invece sia una guida più brillante sul misto arriviamo agli 8 litri per 100 chilometri non è un'auto sportiva non è una palla di fucile quando si preme a fondo l'acceleratore regolarità in marcia e soprattutto rumorosità minima per un diesel sono fra le doti migliori di quest'auto facile intuire che è una vettura nata per viaggiare comodamente in modo tranquillo e rilassato con una buona tenuta di strada anche negli inserimenti in curva da terra è alta 20 centimetri che ci permette di avventurarci in percorsi fuori strada non troppo impegnativi e anche sui terreni sconnessi e sterrati il comfort è davvero buono insomma una vettura molti uso per la famiglia con dimensioni compatte prestazioni brillanti e anche con un rapporto prezzo qualità buono di cui ci si rende conto ancora di più passando su vetture di livello superiore o scendendo da vetture di livello superiore